Una differenziata che non vuol proprio saperne di partire a pieno regime è che ieri ha portato una riunione a Palazzo Longano alla quale hanno preso parte amministrazione, tecnici comunali e rappresentanti della Dasti. L'incontro è evidenziato, si legge in una nota, i limiti strutturali del sistema. In ragione di ciò sono state impartite direttive agli uffici di provvedere nei tempi più brevi a elaborare e attuare possibili interventi di miglioramento. La questione però appare davvero difficile. Tanti sono i cumuli di rifiuti abbandonati dai cittadini, tante anche le lamentelle degli stessi che sostengono di non trovare le isole ecologiche disponibili negli orari indicati. E in più si rischia anche sul piano dell'ordine pubblico dal momento che a quanto pare un operatore ecologico sarebbe stato colpito a volto con un sacchetto di spazzatura nella zona del Tribunale. Sulla questione spinosa è intervenuto anche il consigliere comunale Salvatore Inbesi che ha inviato una lettera al prefetto di Messina e al sindaco Materi. Il consigliere del gruppo Noi ci siamo ha chiesto proprio al prefetto di intervenire in via sostitutiva evidenziando due aspetti, un igienico sanitario e uno di ordine pubblico. Il primo riferendosi ai cumuli di rifiuti in diverse zone del centro e delle periferie che hanno man mano assunto il carattere di microdiscariche e poi l'aspetto dell'ordine pubblico dettato dall'esasperazione dei cittadini. Al sindaco invece Inbesi chiede di conoscere l'esatta dimensione dei servizi resi dall'azienda che gestisce la differenziata. Inoltre se abbia decurtato eventuali spettanze economiche per servizi non resi o se abbia intenzione di agire in futuro a tutela di cittadini che rischiano di pagare servizi inesistenti o che comunque non funzionano a regime.